Ben trovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielino. Ecco le nostre notizie. Due spettacoli diversi che mettono in scena diversi modi di usare il corpo con Free Fall, Anteprima e Kick the Bucket, coreografie rispettivamente di Milan Tomasic e Ivan Perez Aviglis. Va in scena la seconda delle due serate Short Time per il cartellone Dare, scenario danza 2016-2017. Sabato 25 febbraio alle ore 20.45, domenica 26 febbraio alle ore 19. Dopo lo spettacolo domenicale il consueto incontro con l'artista in attorno al tavolo. I due spettacoli sono in prima italiana e in particolare Free Fall in anteprima e in creazione negli spazi del Centro Nazionale di Produzione della Danza Scenario Pubblico, Compagnia Zappalà Danza, in quanto l'artista è residente a progetto. In scena, mentre con Tomasic, la cui omonima compagnia produca lo spettacolo, danzano Alessandro Sollima, Tina Valentana, Tina Brejova e Spela Vodeb. Cambiamo notizia. Lunedì 27 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 19, martedì 28 febbraio dalle ore 10 alle ore 13, con ripresa alle 16.30, l'associazione Sham Officine, dedita alla lotta contro la violenza di genere e il femminicidio, organizza nei locali del Museo Emilio Greco di Catania l'incontro e dibattito la narrazione della violenza nei media, un evento coordinato dalla giornalista Elisa Guccione, con il patrocinio del Comune di Catania, che vedrà donne accomunate da diverse esperienze in campo politico, culturale, istituzionale e professionale, confrontarsi e riflettere sull'esigenza di intervenire fattivamente sulla dilagante violenza nei confronti delle donne, anche in campo sociale, educativo, linguistico e mediatico. Tanti auguri a Gioni Dorelli. Sappiamo Gioni Dorelli, un vivo che è riuscito a far parte del mondo della musica, della radio, della televisione, del teatro e del cinema, ha compiuto 80 anni. Dorelli nasce il 20 febbraio del 1937, è figlio d'arte e sin da piccolo studia il contrabbasso e il pianoforte alla High School of Music and Art di New York. Il suo vero nome è Giorgio Domenico Quighi e inizia ad esibirsi in concorsi televisivi con il nome di Gioni Dorelli. A soli 14 anni riesce a esordire per la voce del padrone con il 78 giri a rotino Famme Durmi. Nel 1955 viene mentre messo sotto contratto dalla CGD di Teddy Reno ed inizia a incidere brani di lingua inglese. Gioni Dorelli, a fortuna, i primi successi arrivano subito, inizia a cantare con Domenico Modugno e i due partecipano insieme al Festival di Sanremo. La loro canzone è riuscita a diventare una tra le più note e più canticchiate di sempre, sto parlando di Nel Blu dipinto di Blu. Partecipa nove volte al Festival e riesce ad arrivare in finale solo 8 ottavo. Dorelli per la sua bravura e la sua fortuna riesce a vincere due volte il Festival di Sanremo. Successivamente entra nel cast di alcune trasmissioni televisive. La prima è Buone Vacanze con il quartetto Cetra e l'orchestra di Gorni Kramer. Nel 1963 diventa conduttore di alcuni programmi televisivi e riesce a crearsi un personaggio tutto suo, Dorelli. Guardiamo insieme appunto uno spezzone. Tanti auguri dalla redazione di Globus Television. Parliamo di teatro. Aspettando Godot di Samuel Beckett in scena al Teatro Marconi di Roma dal 2 al 12 marzo. È stato applaudito lo scorso anno al Teatro Ghione dove ha registrato continui sold out e questa stagione torna a calcare le tavole del palcoscenico, capolavoro mondiale di Samuel Beckett. Aspettando Godot in scena dal 2 al 12 marzo, Felice della Corte nei panni di Estragone, Pietro De Silva in quelli di Vladimiro, Riccardo Barbera Pozzo, Roberto della Casa Laki e Francesca Cannizzo il ragazzo. Sono in scena al Teatro Marconi diretti da Claudio Boccaccini. Considerato appunto dalla critica il lavoro teatrale più bello e significativo di tutto il Novecento. Aspettando Godot è divenuto nel dire comune sinonimico di una situazione in cui si aspetta l'avverarsi di un avvenimento imminente ma che in realtà non accade mai e in cui di solito chi attende non fa nulla affinché questo possa realizzarsi. Parliamo invece di altro, parliamo di videogame. Oggi a Catania, Palazzo delle Scienze, si sta svolgendo, si è svolta la tavola rotonda di Let's Play, il videogioco tra impresa e cultura. Vede la presenza di Giovanna Marinelli tra gli ideatori di Let's Play e presidente di Q Academy e Ilaria Modeo, PR manager di ASVI, associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani. Serrata la scaletta degli interventi che hanno iniziato stamattina appunto alle 10.30, finiranno intorno alle 13 e verranno moderati da Giovanni Polito, esperto di giornalismo videoludico. Ad aprire la sessione è stato Rosario Faraci, professore ordinario di economia e gestione dell'impresa all'Università di Catania e Sebastiano Battiato, presidente del corso di laurea in informatica. Entrambi testimoni della crescita dei talenti siciliani e di come il mondo del videogioco sia volano di nuove professionalità altamente qualificate. Guardiamo il nostro servizio. Chi sono gli attori di Let's Play, cioè da chi è formato? È formato da una società che si è costituita DOC e che mette insieme una competenza di natura finanziaria, naturalmente una competenza specifica sui contenuti del progetto e infine la location con la comunicazione. La location sono queste ex caserme che sono al centro di Roma, quindi in una posizione particolarmente significativa rispetto alla sua raggiungibilità e al fatto che sono nel distretto culturale della città. Chi lavora negli studi di sviluppo è giovanissimo. Abbiamo visto che l'età media degli imprenditori di questo settore è intorno ai 30 anni e si è notevolmente abbassata anche nelle ultime due rilevazioni che abbiamo fatto. Tra il 2014 e il 2016 abbiamo notato proprio anche un abbassamento di questa età media degli sviluppatori di videogiochi. Questo perché? perché ci sono tanti corsi che danno la possibilità ai giovani di formarsi e di poter diventare imprenditori di se stessi e trasformare la propria passione in una professione proprio all'uscita dell'università. Da Globus Television è tutto. Vi ricordo che chi volesse collegarsi e leggere le nostre notizie basta andare sul sito www.globusmagazine.it. Alla prossima! Grazie a tutti!